Questo è un piccolo risultato che stiamo mettendo a regime, perché sono proprio convinto che noi abbiamo passato 20 anni e abbiamo stato un lungo deserto di resistenza politica, adesso dobbiamo pensare al futuro, al nuovo futuro positivo, che mettiamo necessariamente nelle mani dei giovani generazioni. Quindi vi dico la vera semplice, se avete i figli, infogliatevi a fare la politica. Io vi ho celebrato per la prima volta della mia vita otto matrimoni, io ve la faccio a tricolore, e l'ho fatto un po' opposto, non solo per capire l'umanità, perché si capisce, passa di lì l'umanità, vari tipi di umanità.